Un giorno, tornai a casa, trovai mia nonna e mi disse, cosa hai mangiato di buono? Dico a mia nonna che mi sono mangiato la pizza a Lars. Non l'ha presa bene? Mi ha lanciato la ciapatta, lo sapevate? Quel tizio fa versi strani. Ma ovviamente mi mise in punizione. Che cazzo ridete? Sono serio? Che stanzia. Per carità era buono. Ma era piccante. Puttap. Sono triste. Perché esisto?